Ci sono tante cose che possono uccidere la tua carriera imprenditoriale, uccidere i tuoi sogni, uccidere le tue ambizioni e ucciderti come persona ma ce n'è una nello specifico che ti dirò alla fine di questo video che davvero devi evitare La realtà è che se tu volessi tu potresti fare più soldi, potresti vivere meglio e soprattutto dovresti volere più soldi con uno scopo nobile Per cosa guadagni questi soldi? La gente ha le paure sbagliate, questo è ovvio, è chiaro ormai La gente ha le paure sbagliate, siccome queste paure non ti fanno produrre i risultati che vuoi, corretto? Quindi noi dovremmo imparare a trasformare le nostre paure, come feci nella Face the Fear Challenge per chi di voi è un po' più storico su Instagram, sul canale Telegram Parlai di affrontare la paura, parlai di dare un volto diverso alla paura e trasformarla in qualcosa di meraviglioso Ma la gente non ha la paura delle paure, che dovrebbe essere la paura più utile Non una paura sbagliata, una paura che non ti porta a lavorare, una paura che ti fa stare fermo, che ti fa dormire, che ti fa pigrire, che ti fa procrastinare E se ci pensi, no? Ci sono paure intelligenti? Certo che ci sono paure intelligenti In realtà la paura è assolutamente un nostro amico E nella Face the Fear Challenge, se vai nel mio canale Telegram, ci sono ancora gli audio che mandai a novembre 2023 per un mese di fila parlando di paura, no? Le paure positive ci sono E una di queste è la paura di fermarsi La paura di andare in stallo Lo stallo è il problema numero uno della gente Alla fine ho fatto che svelartelo subito, qual è il problema centrale Il problema centrale è lo stallo La gente ha paura di tante cose, ma non ha paura di andare in stallo Di andare fermo, di andare piano, di andare lento, di andare, no? Dove è uscito dal momentum Tante persone hanno la tendenza a chiedermi Come faccio a stare in momentum, a stare in flow A stare in quello stato di flow, di flusso quindi, no? Come faccio? E in fondo la risposta è molto semplice Non ci devi uscire! Non è che come ci fai a rientrare, come faccio a entrarci, come faccio a salirci, come faccio a montarlo Ascoltami fratello, sorella, non ci devi uscire dal momentum Questa è la chiave La gente ha, vedi, le paure sbagliate e i ragionamenti sbagliati Tu vuoi costruirti una vita in cui il flow è il mood centrale È l'approccio unico che tu conosci Quando quindi non sei in flow è sbagliato Quindi la tua normalità dovrebbe essere stare in flow Che vuol dire stare sotto pressione Stare con tante cose da fare Stare concentrato Stare in focus Quello dovrebbe essere il tuo stadio abituale Perché quando tu sei in motion Quindi in movimento Lì le cose succedono Tante persone si chiedono Come fanno ad avere idee In uno stato di non flow Fuori dal momentum Se tu sei fuori dal momentum Sei in delle frequenze e in delle vibrazioni Che non ti danno idee Non ti danno soluzioni ai tuoi problemi Non ti danno energia Non ti danno visione Non ti danno una pianificazione corretta Quindi la chiave è stare in flow Stare in quello stato di energia Di linearità Allineamento continuo In cui tu quasi non sei stanco Puoi fare un video youtube dietro l'altro Puoi lavorare 18 ore al giorno Ti senti gasato in ogni cosa che fai Ti vengono idee Soluzioni In qualche modo sei carismatico Credi in te Tutto quella roba lì E' un qualcosa che è replicabile E ricreabile Per ciascuno di noi L'ha provato almeno una volta nella vita Quindi il flow Ha delle regole precise E ne parleremo in altri video Oggi lo scopo è farti capire Qual è la cosa che tu puoi evitare E vuoi evitare più di tutte Che è lo stallo Perché un conto è avere problemi Un conto è stare in stallo Quando tu sei in flow In momentum Tu incontri problemi Ma siccome sei in stato di flow Il problema non è un problema Ma è una soluzione Il problema non è un problema Ma è un'opportunità È una risorsa Il problema ti aiuta A stare in flow Perché il flow richiede risolvere problemi Il flow richiede stare concentrato E quando tu hai un problema Stai concentrato Perché lo vuoi risolvere Ma immaginate che tu esci dal flow Il problema non riesci a risolverlo Diventa uno Un blocco Al posto che diventare Un'opportunità per stare in flow Per risolverlo Per crescere grazie ad esso E andare a un livello successivo Dunque Quello che tu vuoi evitare Più di tutti Il problema che tu vuoi evitare In qualunque modo È quello di smettere Di avere problemi E quindi andare in stallo Andare in quella situazione In cui tu non stai più aggressivo Non stai più spingendo Non sei più ruthless Spietato Quando tu esci da quel flow Te ne devi rendere conto La maggior parte della gente Non se ne rende conto Perché quando è in flow È una situazione anormale Quindi Situazione anormale Regredisce nella normalità La normalità è una persona Non aggressiva Non puntuale Non precisa Non affidabile Non allineata Non metodica Non in flusso Non in flow Tranquilla Che ha tempo di fare tre ore Pranzo Fare il pisolino E avanti così Quando questa diventa la tua Non abitudine E il flow diventa l'abitudine Tu immediatamente ti renderai conto Quando esci dal flow E quindi Cosa vuoi evitare tu in tutti i modi? Lo stallo Tu vuoi avere problemi Non vuoi avere stallo E il l'abitudine